ed ecco l'appuntamento con l'oroscopo e l'almanacco del giorno 6 aprile ciao da mauro san pietro da verona due come sempre i compleanni quello di un astronauta un ingegnere paolo un espoli è nato il 6 aprile del 1957 figlio d'arte francesco oppini personaggio televisivo anche lui 6 aprile 1982 frase del giorno dice quando il dito indica la luna lo sciocco guarda il dito dall'ariete ai pesci oroscopo per questo 6 aprile ariete oggi molti pianeti vi sostengono e vi aiutano sicuramente a far girare tutte le cose per il verso giusto avvertite il bisogno di esprimervi i sentimenti sono alla ribalta favorita la comunicazione al di fuori della cerchia familiare toro punti di vista contrastanti in ambito familiare usate fermezza nel difendere la vostra posizione ma non fate precipitare le cose sale il bisogno d'evasione e di nuovi contatti interpersonali approfittatene questa sera siate elastici con chi amate ha bisogno di pazienza e comprensione gemelli oggi i rapporti con gli altri saranno piuttosto buoni vi lasciate alle spalle irritazioni e intransigenze riuscite così ad essere più obiettivi in amore il momento di dichiararvi e di esternare tutto ciò che veramente sentite con chi vi sta a cuore cancro qualcuno merita maggiore considerazione da parte vostra fidatevi di più una piacevole sorpresa a metà mattina in campo pratico non adagiatevi su ciò che vi dà sicurezza il rinnovamento che volete comporta qualche rischio leone si aprono nuovi orizzonti che vi fanno sentire alleggeriti e liberi dai passati condizionamenti psicologici situazione sentimentale effervescente un incontro risveglia il vostro interesse vergine l'esperienza passata vi aiuta a superare un contrasto con un amico vivete un incontro amoroso con un rismo e spensieratezza super lavoro da affrontare pianificando impegni e scadenze evitate il troppo affaticamento fisico bilancia contatti interessanti con ambienti nuovi avete la possibilità di ampliare i vostri interessi con ottime prospettive di successo nasce un buon feeling con qualcuno che è sulla vostra stessa lunghezza d'onda gioia in vista per il cuore scorpione buona forma fisica e buona lucidità intellettuale possibilità di affrontare nel modo più efficace i problemi lavorativi anche più difficili un legame sentimentale può tornare alla ribalta sappiatene approfittare questa sera sagittario giornata molto favorevole non lasciatevi sfuggire un'occasione per mettervi in luce anche se dovrete affrontare qualche rischio vivete con senso degli humor un incontro tra amici frecce a bersaglio in amore capricorno grossa spinta ad agire rimettendo in discussione ciò che viene dato per scontato il bisogno di cambiamento vi rende irrequieti e vi fa andare controcorrente concedetevi qualche sosta per fare il bilancio della situazione i sentimenti chiedono di essere vissuti con intensità senza riserve acquario diplomazia e una maggiore cautela nei rapporti con amici e colleghi vi eviteranno incomprensioni rendendovi tutto molto più facile un incontro inaspettato vi apre alle tanti prospettive di lavoro le parole giuste vi aiutano ad arrivare dritti al cuore di chi amate pesci oggi riuscirete a realizzare il massimo col minimo sforzo un vecchio sospeso va risolto in famiglia evitate ambiguità cogliete un'occasione per stare con gli altri in allegria un dialogo più aperto vi aiuta a superare un'incomprensione passeggera con il partner dite no a proposte che vi tentano fino alle ore piccole grazie a tutti grazie a tutti